Ben trovati per l'edizione settimanale del Tgweb di Basilicatanet.it. Contro il rischio e chiusura della caserma Lucania di Potenza, il Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha scritto una lettera al Ministro della Difesa, Ignazzo Larussa. La Basilicata, ricorda De Filippo, è la Regione italiana che ha dato il maggior olocausto alla patria durante le due guerre mondiali, con oltre 12 mila caduti e più di 2 mila decorati al valore. Anche alla luce della recente esperienza del sisma che ha colpito l'Abruzzo, sottolinea De Filippo, è di chiara evidenza il ruolo cruciale che le forze armate sono in grado di svolgere anche in virtù della prossimità territoriale. Esattamente come avvenne in Basilicata in occasione del sisma del 1980, di cui la necessità, conclude il Presidente della Regione Basilicata, di attribuire alla caserma Lucania compiti e funzioni specialistiche nel campo della protezione civile. Veniamo al primo servizio impaginato per il nostro telegiornale. Ci occupiamo dei lavori del Consiglio regionale che ha approvato una proposta di legge sulle donazioni. Sentiamo Valentina Colucci. La promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi e interventi a favore dei donatori e il contenuto di una proposta di legge presentata dal consigliere regionale del gruppo misto Federazione di Centro, Francesco Mollica, è approvata maggioranza nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Obiettivi della proposta sono il mantenimento dell'autosufficienza di sangue intero e il raggiungimento dell'autosufficienza di plasma e la diffusione di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie e a consentire a tutti di essere potenziali donatori. Una legge, afferma il consigliere Mollica, che rappresenta un riconoscimento dell'imprescindibile ruolo svolto dai donatori e che al tempo stesso punta a promuovere la diffusione della cultura della donazione, sviluppando un'adeguata attività di informazione e di educazione sanitaria. Il provvedimento inoltre prevede interventi a favore dei donatori, tra cui l'esenzione del ticket su prelievi di sangue, esami diagnostici e strumentali, sia per donatori di sangue che hanno effettuato un numero di 25 donazioni, ma non sono più nelle condizioni di donare, sia per i donatori cosiddetti ancora attivi. Va evidenziato, precisa Mollica, che l'applicazione della legge e il conseguente aumento dei donatori e delle donazioni di plasma o di emocomponenti consentirà anche di ridurre l'acquisto di farmaci emoderivati e quindi di far diminuire le spese sanitarie. Agevolare iniziative imprenditoriali di lavorazione e commercializzazione del tartufo, valorizzando in loco questa e altre preziose risorse territoriali, come il rafano e le specie officinali. E' quanto ha proposto l'assessore regionale all'agricoltura Vincenzo Viti, intervenendo a Corleto al convegno dal titolo Il Tartufo in Basilicata, ricerca, coltivazione e gastronomia. Viti ha rilevato come la Basilicata sia un territorio vocato alla coltivazione del tartufo, che rappresenta una risorsa di crescente importanza strategica per l'economia di ampi territori, in special modo quelli montani, tra cui i pregiati tartufi ottenuti nella Valle del Sauro. Presso l'ospedale San Carlo di Potenza è stato presentato il progetto Lumir, che prevede nuove strategie per la sanità elettronica. Sentiamo il servizio di Iranna De Meo. Sanità online, presentato nell'auditorium dell'ospedale San Carlo di Potenza, Lumir Lucania Medici in Rete. Un progetto di informatizzazione che consenterà ai medici di base, agli specialisti e reparti ospedalieri, alle ASLA, alle farmacie e ai laboratori di analisi, di mettere in rete documenti elettronici che descrivono il quadro clinico dei pazienti. Il sistema sanitario lucano cambierà il modo di erogare i percorsi di cura, nel senso che questo strumento permetterà effettivamente di condividere e quindi continuare meglio le cure quando si passerà da un ospedale a quella che viene chiamata la medicina territoriale, principalmente incentrata sul medio di medicina generale. Con la digitalizzazione dei servizi medici, una sanità più efficiente e meno burocratica. Una scommessa, una piccola rivoluzione. Beh, noi dove l'abbiamo già sperimentato è già in funzione, no? Poi questa registrazione dei dati ha bisogno del tempo, cioè man mano si costruisce un libretto. I festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna a Matera, afferma il consigliere regionale Di Lorenzo, rappresentano il momento più alto e solenne del sentimento cristiano della popolazione materana, che si tramanda da decenni. Ma sono anche un momento di grande spettacolarizzazione di una tradizione che merita la vetrina del grande pubblico nazionale, al pari di altri eventi. Da tempo, sottolinea l'esponente del PDL, chiediamo alle istituzioni e dalla regione di attivarsi presso le reti nazionali RAI e Mediaset per programmare la diretta televisiva dei momenti salienti della festa, al fine di rendere l'immagine della nostra regione conosciute ed apprezzate anche attraverso questo particolare momento celebrativo di sicuro effetto e di, in dubbio, richiamo turistico. Migliorare l'export, questo è lo scopo principale di un corso di specializzazione in commercio estero per nove giovani diplomati e laureati in discipline economiche, conclusosi in questi giorni. Sentiamo il servizio di Alessandro Sileo. È stata un'iniziativa fondamentale in quanto ha dato la possibilità di formare nuove profili molto importanti che possono dare una grande mano alla nostra regione e alle nostre aziende per l'internazionalizzazione. Appare appagata per questa avventura Chiara Andriulli, giovane laureata materana che ha partecipato al corso di specializzazione in commercio estero. Un bilaggio più che positivo, esposto dal presidente Vito De Filippo, dell'assessore regionale Antonio Otilio, dal direttore dell'ICE Giuseppe Lamacchia. Noi avremmo sperato che fossero state in nove le aziende che avessero poi avviato al lavoro anche questi ragazzi, ma già quattro su nove è importante. Senza perdere di vista però che questi altri cinque ragazzi hanno capacità oggi acquisite sotto il profilo della formazione, sotto il profilo del titolo che hanno acquisito, per poter avviare anche autonomamente un'attività di internazionalizzazione e quindi per il commercio con l'estero che diventa sicuramente un'attività, una scommessa importante per la nostra regione. Con l'obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali è stata sottoscritta una convenzione tra il direttore generale dell'Inps e la dirigente generale del Dipartimento Formazione e Lavoro della Regione. La convenzione fa seguito all'accordo già sottoscritto dalla Regione Basilicata e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel mese di aprile scorso, che stabilisce le priorità e le modalità di interventi da attuare. Le risorse previste, anticipate nell'accordo tra Ministero e Regione Basilicata, sono di 9 milioni di euro e sono destinate alla concessione in deroga degli ammortizzatori sociali per tutte quelle situazioni di crisi aziendale e di particolare gravità occupazionale non previste dalla normativa ordinaria. Luoghi, forzieri, fantasmi è il titolo di un libro di Paolo Albano presentato nei giorni scorsi a Potenza. Sentiamo il servizio di Vincenzo Sant'Angelo. La difficile situazione della Società del Meridione d'Italia ed il suo tormentato rapporto con una mentalità ancora troppo legata alle piccole realtà di famiglia sono al centro del libro di Paolo Albano presentato presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza. Luoghi, forzieri, fantasmi, la classe dirigente e lo sviluppo improbabile risulta essere un titolo emblematico e quasi premonitore di una situazione di crisi generale che si ripercuote ancora di più sulla sempre meno facile situazione del sud di teatro. Lo sviluppo è un incivilimento, come dice un economista molto bravo che è Marco Vitale. Significa che ci vuole una fecondazione collettiva, il che nega i finanziamenti a pioggia, i miracoli che cerchiamo continuamente. dice uno giustamente, che è Norberto Bobbio, che la questione non è del meridione ma è del meridionale. Credo che questo sia molto giusto. Termina qui il nostro TG Web settimanale. Vi ricordo che i servizi quotidiani sono disponibili presso la pagina web www.tgbasilicatanet.it Grazie per l'attenzione prestata.